Il Comitato Progettiamo Bimbi in Sicurezza della Scuola Noe Lucidi si chiede dopo i risultati degli ultimi indici di vulnerabilità sismica cosa ci sia che non va? Diciamo che a questo punto dopo la pubblicazione di questo nuovo indice le ipotesi sono due o i lavori effettuati di recente non hanno prodotto un miglioramento dal punto di vista sismico ma addirittura un peggioramento tant'è che abbiamo un indice più basso rispetto al precedente oppure la seconda ipotesi potrebbe essere quella che il valore dell'indice precedente non era corretto ma inferiore a quello dichiarato e quindi i nostri dubbi sulla tendibilità di questo calcolo sono fondati ma se si fosse verificata questa seconda ipotesi ci chiediamo come mai nel caso in cui sia stato fatto un errore nel calcolo di questo vecchio indice gli organi di controllo non si siano accorti dell'errore eventualmente Come pensate di muovervi a questo punto? Ma vogliamo andare a fondo sulla situazione ma sicuramente oggi a distanza di otto mesi perché noi otto mesi fa siamo andati dal sindaco a porre questo nostro dubbio noi oggi vogliamo delle risposte, esigiamo delle risposte nell'uno o nell'altro caso Avete già avuto un incontro con il primo cittadino? Abbiamo avuto diversi incontri con il primo cittadino, sono cominciati a febbraio 2016 sono continuati nell'arco di tutto l'anno l'ultimo c'è stato un mese fa, non abbiamo avuto risposte ufficiali e oggi finalmente con questa pubblicazione, con questa ufficialità da parte dell'amministrazione noi esigiamo una risposta Grazie